Venga a posizionarla, dove vuole lei? C'è una guerra adesso, è il Vietnam. Che paese è quello che ha puntato Sosorella? L'India. India? L'India? È l'India. Quindi ho sbagliato. Prima regola, rispetto reciproco, il quale non deve mai venire meno. Sono la professoressa Cavagnaro e come i più intelligenti di voi avranno capito, sono la vostra insegnante di educazione musicale. La prof di musica è strana, quando parla fa quindi? E' sembra che si fa vedere tipo la labbra e il canotto, pare che c'è tutte le punture. Noi tratteremo di musica. L'arte dei suoni e non dei rumori. C'è tempo per migliorare. Con la dedizione allo studio i risultati arrivano. Signorina Cora Fazzini, quattro. Signorina Marilu Fazzini, per non avere alcun motivo di inquietudine gemellare, anche questo è un quattro. Gambuzza, quattro. Quattro. La ringrazio. Quattro e mezzo. E' un quattro. E infine, la mia consolazione. La signorina Ortona. Venga signorina, venga. Sono da qui copiare. A lei piace la matematica signorina? Sì. La fa con piacere? E' un bel sette. Grazie. Prima della settimana.